Ciao ragazzi, si è appena conclusa Lazio Cluj, la Lazio ha vinto e tiene vive per un po' le speranze per questa Europa League. Che dire, è stata la prima volta che tutti e quattro i nuovi acquisti di quest'estate hanno giocato insieme, Vavro, Lazzari, Gioni e Adecagne, a decidere la partita ancora una volta Correa, ma grazie a un magistrale assist di Luis Alberto. Non è un caso secondo me che quando Luis Alberto si è spinto la Lazio ha iniziato a soffrire e Cluj è venuto fuori e ha messo in difficoltà la Lazio. Che dire, parliamo dei quattro nuovi acquisti, Vavro mi è piaciuto molto, credo che sia stata la sua prova migliore da quando è alla Lazio, per cui Vavro direi sicuramente positiva la sua performance oggi, ha fatto uno sbaglio nella fase finale, negli ultimi minuti, però è stato bravo a recuperare, non è costato un gol, per cui direi comunque Vavro bene. Male invece Gioni, Gioni ancora una volta ci aspettavamo tanto e anche oggi Gioni non mi è piaciuto per niente. Ha fatto il suo, ma non ha fatto niente di speciale, contro Cluj, che è una squadra diciamo mediocre, non è riuscito mai a superare l'uomo, per cui Gioni mi preoccupa abbastanza. Lazzari molto bene, soprattutto nei minuti di finale, ha preso addirittura più confidenza, ha fatto respirare la difesa, per cui Lazzari molto bene. E bene anche De Cagne, non solo per l'assist per il primo gol, ma De Cagne in generale ha giocato molto bene. Sono rimasto un po' sorpreso che sia uscito lui e non Correa quando è entrato dentro Caicedo, anche perché domenica la Lazio ha una partita importante contro Udinese e secondo me andava risparmiato un titolare come Correa piuttosto che a De Cagne. Invece Inzaghi è buttato dentro Caicedo e là la domanda è se Caicedo non sta bene per iniziare, perché farlo entrare? Non capisco. Luiz Alberto, il migliore in campo finché ha retto, poi nel secondo tempo un po' sceso di intensità, probabilmente ha iniziato ad avvertire la stanchezza e la Lazio ha sofferto. Giusto toglierlo, perché anche lui è un giocatore da preservare per domenica prossima. Bene Cataldi, a me Danilo piace sempre, si sta confermando un ottimo acquisto per la Lazio. Che dire, parolo così così, con esperienza, ha fatto il suo, da segnalare, giusto per complicare un po' le cose, che nei minuti finali si è fatto male Patrick, non sappiamo le tirate di infortunio, ma praticamente la Lazio ha chiuso la partita in 10, rendendo più facile al Cluj l'assedio, però la Lazio ha tenuto questo risultato che tiene vivere speranza, ma soprattutto oggi era importante vedere i nuovi. Bene Vavro, a questo punto mi aspetto il suo esordio anche in campionato, perché oggi è giocato bene, abbiamo visto che Acerbi può giocare a sinistra, per cui credo che Vavro sia un giocatore tra virgolette recuperato, bocciato ancora a Johnny, non mi è piaciuto, a De Cagni e mi aspetto che dopo la performance di oggi possa giocare di più anche in Serie A e vederlo finalmente debuttare, anche in Serie A dal primo minuto no, però magari avere un po' più spazio in campionato. E voi che ne dite? Scrivete nei commenti qua sotto. Ciao, alla prossima!